Ti riporto quanto ha detto Torrente, noi abbiamo perso la qualificazione perché dopo il 2-0 Pompetti ha fatto un gol straordinario. Io questo non lo sapevo che il mister aveva detto così, mi fa piacere, lo ringrazio, però diciamo che prima di tutto sono contentissimo perché siamo riusciti a passare il turno e secondo me comunque abbiamo disputato una grande partita, abbiamo preso magari due gol che potevamo evitare, però l'importante è che abbiamo passato il turno, dobbiamo recuperare le energie e pensare adesso a domenica. Soprattutto si è rivisto il Pescara, quello che aveva giocato contro il Cesena o anche per alcuni tratti a Modena? Sì, sicuramente, sono d'accordo perché comunque anche se magari il primo tempo abbiamo perso 2-0 e 2-1, comunque siamo andati sotto, secondo me abbiamo fatto comunque un ottimo primo tempo, abbiamo giocato molto bene e poi comunque nel secondo tempo siamo venuti fuori ancora di più e abbiamo trovato il pareggio. Anche Pompetti sta molto meglio, è una sensazione? Sì, comunque sono contento anche io personalmente perché partita dopo partita mi sento sempre meglio, soprattutto comunque a livello fisico, sto ritrovando la forma migliore e adesso che arrivano le partite più importanti sono contento per questo. Però c'è un problema Marco, che il Pescara subisce due gol a partita, adesso non va più bene? No, sicuramente è una cosa che non va bene ma noi lo sappiamo in primis e dobbiamo cercare di migliorare a partire comunque dagli attaccanti perché quando si prende gol, secondo me non è mai colpa solo dei difensori o comunque del portiere, è colpa di tutta la squadra, quindi dobbiamo iniziare a difendere meglio gli attaccanti e poi tutta la squadra. Ti chiedo un'ultima cosa, se hai qualche preferenza tra le squadre, magari il Blasone del Palermo, rincontrare il Cesena oppure Lentella, andare al nord, Feralpi, Renate, vai, scegli di la squadra. No, vabbè, comunque sono tutte squadre molto forti ma non superire a noi, noi ce la giocheremo con tutte quante, comunque poi giocare con squadre come il Palermo sarebbe bello, affascinante perché comunque come noi hanno uno stadio importante, bellissimo, un tifo importante, quindi sarebbe bello giocare partite così. Massimo, io non ho più l'auricolare quindi se volete fare una domanda a Pompetti gliela giro io. Sì, allora, velocemente faccio io la domanda, scusa Fabio posso? Anzi, guarda, ritrovato, vai. Era una curiosità, magari le fa una anche Fabio, intanto complimenti Marco, perché ultimamente, chiaramente, si vedeva che non eri al massimo della condizione per i problemi di cui abbiamo parlato in queste settimane, ma oggi ti ho visto veramente molto bene, hai giocato più da regista, diciamo così, anche se poi nel gol ti sei inserito alla grande, come ti capita spesso. Ecco, la domanda è questa, sbaglio è una sensazione errata oppure Zauri vi chiede maggiore verticalità del gioco? No, no, sicuramente, sicuramente hai detto una cosa giustissima perché il mister a noi mezzali ci chiede comunque di stare, di giocare alti vicino alla linea difensiva avversaria e di supportare comunque i nostri attaccanti e di buttarci molto spesso magari anche senza palla. Io comunque, anche se magari non è nelle mie corde, cerco comunque di fare al massimo quello che il mister mi chiede, poi comunque quando posso giocare molti più palloni, secondo me mi trovo meglio e diciamo rendo di più, ma comunque devo fare quello che mi chiede il mister e poi devo metterci anche del mio quando vado in campo. Tradotto? Vorrei fare il vertice del centrocampo a tre? No, 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 assolutamente no, assolutamente no. La mia traduzione? Sì, no, 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 siamo messi benissimo in campo così come stiamo e come ho sempre detto dovunque poi il mister decide di farmi giocare io darò il massimo.